Mi alleno ma i miei glutei non migliorano Ti faccio quindi vedere quali sono gli errori che si commettono maggiormente quando si allenano i nostri glutei Numero 1 Allenarli tutti i giorni I glutei, come gli altri muscoli, hanno bisogno di riposo per migliorare Allenali 2 o 3 volte a settimana 2 Non fare solo slanci, ma concentrati anche sugli esercizi come squat, affondi e thrust Numero 3 Molto spesso non si è costanti Numero 4 Pensare che il cardio e andare a camminare facciano migliorare i nostri glutei Alla prossima